Finalmente abbiamo raggiunto l'obiettivo l'anno scorso, adesso si parla solo di Serie B, speriamo di non tornare più in Lega Pro sia io personalmente e tutti i miei compagni perché siamo meritati questa B e siamo carichi di incominciare. Abbiamo avuto 4 stagioni in B non come ho desiderato quindi adesso ho la possibilità di rifarla e spero di lasciare il segno pure quest'anno. Hanno fatto ottimi acquisti alla società, siamo molto contenti, il gruppo era già ben composto, adesso con questi 4-5-9 acquisti saremo ancora più forti e sicuramente faremo un grande campionato. Abbiamo costruito un percorso insieme al mister e lo seguiamo in tutto e quindi sono come ho detto prima fiducioso che faremo belle cose quest'anno. Sì, prima di tutto una bellissima cosa, per me lo era già l'anno scorso che eravamo dei primi anni dei grandi quindi ogni anno c'è qualcosa di più bello e sono felicissimo per questo. Ma al Flosinone come sapete sono 4-5 anni che lavora benissimo sui giovani, io Paganini, Gori e tutti gli altri quindi per noi è un onore rappresentare questa società e la ringraziamo per la fiducia che ci viene data però sono convinto che anche quest'anno riusciremo a ricambiare le mie remoti. Ma c'è tanto entusiasmo, per noi giovani c'è a prescindere però quando ci sono queste situazioni categorie importanti è ancora più bello quindi io durante l'estate all'intervista dicevo sempre che non vedevo l'ora di iniziare, finalmente siamo arrivati e non vedo l'ora di mettermi a disposizione. C'è stata questa fiducia rinnovata da parte della società e questa sicuramente è la nota positiva per quanto riguarda me stesso soprattutto. Sì è un orgoglio perché comunque giocare per la squadra della mia città soprattutto in Serie B è un sogno che si realizza e adesso vedremo come andrà questa esperienza. Si riparte dalla Serie B secondo me era la cosa che più sognavamo e sicuramente abbiamo dimostrato di meritare alla fine dei playoff. Per me non so se veramente sono stati dei grandi playoff, sicuramente ci ho messo del mio nel senso che tornavo dopo un grave infortunio e era l'unica occasione che avevo per dimostrare veramente che non ero finito. Il gruppo era fatto di grandi giocatori, un grande gruppo e acquisti sicuramente mirati, gente che conosce la categoria, sicuramente arriverà qualcun altro che conosce la categoria e può darci soltanto una mano. I giovani comunque sono la prima esperienza in questo campionato quindi c'è l'entusiasmo ma c'è anche l'inesperienza e comunque bisogna crescere partita dopo partita. Ci siamo riusciti in due anni in Lega Pro quando sembrava comunque una cosa impossibile, non vedo perché non possa essere possibile in Serie B. Sono passati 8-9 anni, su per giù. Abbiamo voluto conto che siamo tornati a trovarla in Serie B e una soddisfaccia per tutti quanti noi. Ogni anno può succedere di tutto, quindi l'importante è che uno fa sempre il suo dovere. Poi alla fine il mister deciderà chi fa giocare, l'importante è che si fa trovare sempre pronto. Si riparte sì dal mister, alla fine come la pensa il mister, penso che già da martedì la mentalità sua resterà sempre quella. Quindi pure se siamo in Serie B lui alla fine vorrà sempre vincere. Quindi partiremo già a mille. E niente, sono contento che il mister sia rimasto, lui è lo staff tecnico quindi alla fine spero anche per lui che riusciva a fare un ottimo campionato anche grazie a lui. Si è visto anche l'anno scorso, a parte Palermo che poi alla fine è uscito fuori, però l'anno scorso anche le squadre neopromosse come l'Avellino e il Trapano hanno fatto un ottimo campionato. Quindi vedo che alla fine la società sta facendo pure dei ottimi investimenti. Quindi speriamo di fare soprattutto un ottimo campionato. Intanto uno pensa alla salvezza, giusto? E poi alla fine dopo la salvezza speriamo bene. Sì, per me questa è una categoria nuova, però fare bene come l'altro anno per me sarebbe un sogno. Trovare spazio e giocare per questa squadra per me è veramente un orgoglio. Quindi spero di ripetermi come l'altro anno. Sì, ovviamente è un altro campionato, la Serie B è squadre più fisiche, migliori su qualsiasi punto di vista, tattico, tecnico. Però noi ci siamo attrezzati bene comunque con questi nuovi innesti e secondo me sarà un'annata positiva. Sono contento di ritrovare il mister che devo molto a lui e anche sono tre anni che sto con lui. Quindi mi sono trovato sempre benissimo e sì, sono fiducioso anche per i nuovi innesti che sembrano già dei ragazzi speciali.